Io penso che il nostro atteggiamento e la nostra posizione e il nostro agire quotidiano porti a un maggior chiarimento nella politica, cioè vale a dire si sta insieme se si crede in certe cose. Questa maggioranza di governo, per come è nata, per come è, ha delle deficienze all'interno di Vicenza, ci vedremo anche volessi. Io raffiguro la politica italiana, la maggioranza italiana, con due rubinetti, una a destra e una a sinistra. Quella a sinistra gocciola e non c'è stoppa che tenga, perché un giorno va via civati, un giorno va via cofferati, un gocciolio continuo. E voi date una mano. Noi non diamo nulla, noi non diamo neanche la stoppa, lasciamo stare, lasciamo che vada da sé, che vada come deve andare. Dall'altra parte c'è un altro rubinetto, quello determinato dagli amici dell'NCD che hanno fatto dei ritorni indietro come Pagliariello, come Giovanardi, un rubinetto di qua, un rubinetto di là, trovare un idraulico in questo paese non è facile, specialmente di domenica.